ragazzi questo è il nostro sovescio sovescio 2021 guardate spettacolo fiori per le api nutrimento per i terreni tante varietà avena trafano triticale trifoglio nano piselli bellissimo perfetta forma e quasi pronto per essere interrato o schiacciato al suono quest'anno proveremo per la prima volta lo schiacciamento del sovescio guardate questo è un paradiso per le api ed è un tocca sana per i terreni e di conseguenza per le nostre barbatelle guardate che fiori bellissimo sovescio in piena fioritura